da chi la riceverà la telefonata? ci sono diverse squadre che stanno cambiando panchine che quindi potrebbero cercarlo il Palermo, il Catania, il Cesena potrebbe andare in diverse società De Canio com'è la situazione delle panchine? perché qui si rischia di perdere un po' il conto guarda qui, allora ti salvo e poi ti lascio ce la spieghi un po' questa grafica che abbiamo preparato? sì, perché praticamente tutti gli allenatori che hanno salvato facendo delle imprese le rispettive squadre non sederanno su quelle panchine la prossima stagione Malesani che ha salvato il Bologna con tre mesi d'anticipo andrà a Genova, Sponda Genoa e l'allenatore sarà Bisoli che firmerà nelle prossime ore a Catania Simeone andrà via al suo posto ci saranno uno tra Marco Lin Torrente o proprio De Canio di cui parlavamo prima Torrente che ha fatto una grandissima stagione con il Gubbio a Cesena, Ficcadenti a proposito, su Ficcadenti c'è una notizia dell'ultima ora perché Ficcadenti sta incontrando Campedelli e questa sera dovrebbe comunicare il suo divorzio dalla società quindi Ficcadenti dal Cesena appunto e ne sapremo qualcosa in più nel corso della serata certamente con Ficcadenti che molto proprio per me non c'erà scusa un attimo però, sta incontrando Campedelli del Cesena Campedelli presidente del Chievo no no Campedelli del Chievo e poi rivediamo la grafica un attimo perché lui in ogni caso firmerà un contratto con Campedelli Ficcadenti ha come presidente al Cesena Campedelli però potrebbe firmare un contratto con il presidente del Chievo Campedelli ecco l'altro presidente Campedelli secondo me è scritto nel destino che va a allenare il Chievo Ficcadenti Sì, la raffica che riguarda il Catania perché vi abbiamo parlato di possibili allenatori del futuro dopo Simeone, Marcolin, Torrente ma anche De Canio e poi Lomonaco che potrebbe incontrarsi nei prossimi giorni con Lotito perché ieri si sono visti all'inaugurazione del centro sportivo del Catania Lotito ha chiesto informazioni su Maxi Lopez e Silvestre e quindi ha detto Lomonaco se Lotito li vuole abbiamo un ottimo rapporto basta chiedergli e poi